Ed eccomi qui oggi in compagnia di un prodotto veramente molto interessante perché sono in compagnia di Mazda MX-30, un'auto, un SUV elettrico ma con una filosofia davvero molto interessante alle spalle e soprattutto in ottica costruttiva. Ma bando alle ciance iniziamo a dargli un occhio dal punto di vista estetico, si tratta di un SUV lungo 4,40 m, largo 1,80 m e alto 1,55 m. Si va a distinguere sempre per alcuni elementi stilistici molto cari a Mazda che vengono sempre ripresi dal code design che va a plasmare delle forme con delle continue concentrazioni di energie, dei rilasci soprattutto sulla parte delle fiancate che riprende un po' lo stile di CX-30 ma lo va a unire a quello di una vera e propria MX. Infatti quando andremo a guidare spiegheremo un po' queste due paroline. Una caratteristica curiosa riguarda innanzitutto le portiere e la vista laterale perché vedete che qua dietro non c'è una maniglia perché nel momento in cui apro la portiera anteriore poi posso andare ad aprire anche la portiera posteriore che si va a aprire in questo modo quindi contrapposto e questa cosa non solo va a decretare un'esclusività dal punto di vista stilistico quindi una permissione stilistica ma anche una facilità non indifferente nel salire nella zona posteriore. Ma bando alle ciance di nuovo andiamo a vedere invece dal punto di vista del design che cosa è stato fatto sugli interni. A bordo ritrovo lo stesso family feeling di CX-30 e di Mazda 3 soprattutto per tutto ciò che c'è davanti a me quindi questo volante fatto in questo modo, il cockpit digitale che ho qua davanti ma anche tutta la parte di plancia con questo display da 8,8 pollici che volutamente è lontano dalla mano e non è touch per una questione di sicurezza tanto cara Mazda che si fa invece controllare da questa rotella al centro della plancia. Poi per quanto riguarda altri sistemi sono inediti i display che vanno a controllare tutta la zona della climatizzazione, qua c'è un display a parte, leva del cambio molto corta, cambio che poi serve soltanto a selezionare la modalità del motore elettrico. Invece ci sono altre caratteristiche interessanti delle chicche non indifferenti che sono la scelta dei materiali, guardate innanzitutto i sedili come sono belli, come sono puliti, con questa scelta di similpelle bianca e questo tessuto grigio con questi contorni in color sughero non a caso perché su quest'auto viene utilizzato un materiale insolito che è proprio il sughero, lo vedete qua che va a rivestire alcuni elementi della plancia. Sughero che come curiosità va un po' a ripercorrere quelle che sono le origini dell'azienda perché quando è stata fondata Mazda nasce come azienda che lavorava questo materiale, materiale che va a completare anche la scelta di quest'altro rivestimento in grigio molto bello, molto bello anche al tatto, che è fatto al 100% di plastica PET, quella delle bottigliette riciclata. Quindi una zona anteriore che si compone in questo modo ed è veramente molto piacevole e guardate la zona posteriore quanto è facile salire e sedersi su questo divano posteriore, davvero con la massima facilità senza nessun problema. Da qua dietro posso anche controllare il movimento del sedile davanti ma non ce n'è bisogno. Quindi una Mazda MX-30 che si vive molto bene, è curiosa, mi piace questa scelta audace di essere originale e giusto per andare a completare alcuni tratti, poi guardate bene come si chiudono le portiere, prima quella posteriore e poi quella anteriore, ci sono alcune cose che vanno proprio a enfatizzare la volontà di Mazda di dire abbiamo fatto un prodotto veramente notevole come questo richiamo con il lettering Mazda e per poi andare a finire invece nel bagagliaio che ha una capacità da 366 litri, non male, con due cavi di ricarica perché questa vettura si può ricaricare sia con la wallbox domestica ma anche sulle colonnine di ricarica rapida, c'è a demo. Detto questo abbiamo poco tempo quindi andiamo a guidare ma la cosa bella è che Mazda ne sono talmente tanto convinti che prima di guidarla mi fanno provare lei. Quindi andiamo a capire se le sensazioni che ci saranno alla guida di MX-30 saranno in piena filosofia Mazda. E alla guida questa MX-5, beh è una MX-5 quindi è sempre una vettura veramente tanto speciale, noto con piacere quello che si sente, ovvero una leggerezza marcata soprattutto per quanto riguarda tutti i movimenti delle ruote, quindi si sentono veramente tanto sulle macchine leggere come come la MX-5 tutto quello che succede su tutte quelle che sono le masse non sospese e questi cerchi da 16 ultra leggeri si fanno sentire. Si fanno sentire poi a me, devo essere sincero con voi, piacciono, piacciono molto gli pneumatici che lavorano di spalla perché per me la gomma deve lavorare ed è una goduria inimmaginabile e veramente molto appagante viaggiare su questa MX-5. Tra l'altro motore che è stato aggiornato per rispettare le normative Euro 6D e nonostante questo non perde nulla, anzi è sempre bello brioso, è sempre bello allegro ed è ancora un piacere guidare una vettura di questo genere perché sono e saranno sempre più rare tutte queste vetture con un motore aspirato, leggere, quindi che ci fanno un attimino tornare indietro nel tempo. Sento veramente tanto quella filosofia tanto cara a Mazda che sta sotto il nome di Jinba Tai, quindi essere al centro di questa esperienza nel miglior modo possibile, un po' come quel legame che si crea tra cavallo e cavaliere. Vediamo se tutte queste sensazioni le ritroverò anche alla guida di MX-30. Ebbene, l'ho guidata per un po' e vi posso confermare che si guida come una vera MX e il perché ve lo spiego tra poco. Innanzitutto parliamo di dati tecnici. Sono su un SUV elettrico a trazione anteriore capace di esprimere 145 CV grazie a 270 Nm di coppia. 270 Nm di coppia che come avrete imparato a capire in questi anni sui motori elettrici vengono generati da zero giri. Ciò significa che se vado a sfiorare l'acceleratore ho letteralmente un effetto fionda a prescindere dalla potenza massima che non sembra elevatissima. Quindi una rapidità nel divincolarsi dalle situazioni piuttosto che una sicurezza garantita dalla riserva di potenza dell'auto veramente notevole. Ma non finisce tutto qua. La vettura poi ha una batteria da 35 KWh che garantisce nel ciclo di omologazione WLTP 200 km di autonomia nel misto. Potrete dire che non sono tanti, è vero, e potrete dire che non sono tanti neanche i 262 km di autonomia invece in un contesto urbano sempre secondo il ciclo WLTP. Ma dietro quest'auto c'è una filosofia molto complessa e molto intelligente a cui vi inviterei di riflettere un attimino perché in realtà quando si va a parlare di auto elettriche e di auto emissioni zero beh si fa riferimento soltanto al momento in cui le auto sono su strada e basta che va bene ok le auto elettriche non inquinano in percorrenza. Però Mazda giustamente dice bisogna considerare l'intero ciclo di vita dell'auto quindi non solo quando è strada ma anche quando viene ricaricata e capire da dove arriva l'energia elettrica ma soprattutto anche quando l'auto viene prodotta perché è lì forse che si va a perdere un po' di concentrazione perché per costruire le batterie quindi reperire terre rare, lavorare, materiali eccetera eccetera comunque si produce CO2 quindi Mazda andando a calcolare il livello di CO2 prodotto nell'intero ciclo della vettura dell'auto si accorta che con una batteria da 35 kWh e qua state vedendo una slide si riesce a star sotto ai livelli di CO2 prodotta nel ciclo di vita per intero di un'auto con motore a combustione interna quindi 35 kWh è un limite che fa definire quest'auto veramente ecologica perché se si compra un'auto elettrica con in mente un discorso di ecosostenibilità bisogna calcolare tutto e calcolando tutto questa è la soluzione migliore ma non solo avere una batteria più piccola che comunque fare 200 km di autonomia nel misto 262 in città è ben oltre i circa 50 km che fa al giorno in media una persona significa anche avere una batteria più piccola e soprattutto una batteria che pesa meno perché in questo caso su questa vettura l'intero corpo batterie pesa appena 310 kg che fa pesare la vettura complessivamente 1645 kg beh 1645 kg è un peso praticamente dal segmento C gasolio e tutto questo su un'auto elettrica è inedito è completamente inedito perché dà una dinamica completamente diversa perché con un peso ridotto la vettura si comporta in modo differente è vero sì che tutte le auto elettriche hanno un baricentro basso perché le batterie sono sul pavimento è vero quindi che entrano in curva molto bene però giustamente quando la curva la si va percorrere il peso c'è comunque cosa che non si sente su questa vettura perché pesa come una vettura normale nonostante sia elettrica quindi va a dare tutti quei vantaggi va a unire tutti quei vantaggi di un peso ridotto con quelli che sono i vantaggi di un'auto elettrica quindi un'auto con un baricentro basso e con capacità dinamiche enfatizzate soprattutto anche dall'accelerazione tornando a noi mazda mx30 integra anche alcune soluzioni molto carine ad esempio un pedale dell'acceleratore con un software rivisto che riesce a capire molto meglio quali sono le intenzioni del driver in tutte le situazioni quando ci sono richieste improvvise o meno di potenza ma anche di alcune accortezze che riguardano il suono allora siamo a bordo di un'auto elettrica quindi siamo vattati comfort totale non sentiamo nessun suono ma in mazda hanno voluto lavorare sui suoni prodotti fisicamente dal motore elettrico esattamente come fanno i tecnici sui suoni che vengono prodotti dai motori a benzina quindi si è andato a creare delle assonanze e risonanze per fare in modo che il conducente anche nel silenzio di un motore elettrico riesca a percepire molto bene quanta coppia sta erogando il motore e questa cosa sembra scontata e bisogna abituarsi un po' perché innanzitutto si entra in un abitacolo che ci isola completamente dalla strada perché non c'è più il suono le vibrazioni del motore ma dopo che ci si fa amicizia dopo che si capisce quali sono i suoni di questa vettura ci si rende conto che si riesce a percepire molto bene esattamente come sul motore a combustione interna quanto è sotto sforzo il motore ed è molto utile nel dosare poi l'energia della della vettura altre cose che mi sono piaciute dell'auto sono senza ombra di dubbio come si guida in percorrenza di curva si sente che la vettura pesa poco a un baricentro basso e quindi si comporta molto bene dal punto di vista tecnico delle sospensioni davanti abbiamo uno schema mac person dietro una barra di torsione molto evoluta un po' come quella vista su mazda 3 mazda cx 30 uno sterzo molto preciso molto omogeno mi piace poi mi piace anche l'impugnatura di questo sterzo la corona è veramente bella riesco a controllare la vettura in un modo iniziepibile e mi piace soprattutto il fatto che su quest'auto abbia una piena confidenza del mezzo perché mi dà molta sicurezza anche grazie a tutti i sistemi adas evoluti che sono presenti su questa vettura praticamente già tutti disponibili di serie ma anche per il fatto che gli ingombri dell'auto sono molto percepibili è una posizione di guida rialzata che mi fa tenere sotto controllo ogni angolo della vettura e questa è una strategia chiave per fare in modo che una vettura sia piacevole nell'utilizzo quotidiano non ho zone dove ho qualche incertezza nel fare manovra ho tutto sotto controllo i montanti sono nella posizione giusta mi fanno avere una visione di insieme davvero molto buona e quindi questa mx 30 si guida come una vera mazda mx e soprattutto si guida bene durante il resto della prova ho potuto poi sperimentare l'efficacia del sistema frenante non solo per la potenza di frenata in sé che è innovatissima ma tanto per l'integrazione che c'è tra il sistema di recupero e la frenata vera e propria generata dalle pinze sul disco ecco questo è un punto cruciale su tutte le auto elettriche perché è raro molto raro trovare una vettura che abbia un pedale del freno molto modulabile e sincero ecco questa sensazione l'ho provata su mx 30 come su taycan e su nessun'altra vettura il tutto perché queste due auto utilizzano la stessa tecnologia per il sistema frenante e di conseguenza anche il freno diventa un fiore all'occhiello dell'esperienza dinamica alla guida di mazda mx 30 parlando di prezzi invece si parte da una base di listino un prezzo di attacco di 34.900 euro per la versione executive che già di per sé è molto accessoriata mancano soltanto piccoli dettagli come gli specchietti non ripiegabili piuttosto che i finestrini non oscurati per poi salire a 37.600 euro per la versione exeed e 39.350 euro per la exclusive che è praticamente full optional di conseguenza i prezzi sono molto interessanti anche al netto di sgravi fiscali incentivi statali regionali e per la rottamazione quindi un'auto molto interessante filosoficamente corretta e che mantiene gli standard di guida di una vera mx e con questo non posso far altro che ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo al prossimo video sempre su automoto